Una corsa lunghissima, una cavalcata immensa ed estenuante, dagli spettri di gennaio ai sogni più concreti e vividi che mai di inizio giugno. Il Trapani ha davanti l'ultimo ostacolo, il più difficile da superare nell'unica finale possibile dei play-off di Serie B targati 2015-2016. Il Pescara di Oddo vuole la Serie A, così come la vuole il Trapani che ha l'occasione di raggiungerla per la prima volta nella sua storia. La gara d'andata di domani all'Adriatico potrà già dire molto, con i Granata di Cosmi chiamati all'impresa lontano da casa, ma ai quali continua a poter bastare anche un pari sia all'andata che al ritorno per toccare il cielo con un dito. Pienamente recuperato Petkovic, il tecnico dei siciliani punta a confermare la formazione, che ha ben figurato sia all'andata che al ritorno con lo Spezia. Retroguardi è ancora affidata al trio Perticone-Pagliarulo-Scognamiglio davanti al portiere Nicolas. Centrocampo a cinque con Fazio e Rizzato, sulle corsie esterne ai fianchi di Eramo, Scozzarella e uno tra Nizzetto e Barillà. In attacco nuovamente spazio a Petkovic dopo lo stop nel pre-ritorno con lo Spezia. Accanto a lui Citro con Coronado pronto ad incidere nuovamente come dimostrato anche in allenamento. Per il Pescara di Oddo tutti a disposizione, tra Neve Muschai per impegni internazionali, Zuparic, Mandragora e Coda, alle prese con la riabilitazione dei loro infortuni. Tutto esaurito all'Adriatico, così come lo sarà anche giovedì prossimo il provinciale arbitro della gara di domani, Luca Pairetto, il primo dei due ultimi passi verso il sogno della Serie A. Grazie a tutti.